Dov'è scappata Mitch Larson? Che cosa nasconde Stephen Holter? Come reagirà Sarah Linden? Chi darà giustizia a Stan Larson? Chi è davvero Darren Richmond? Chi ha ucciso Rosie Larson? Tutte le risposte stanno per arrivare. In contemporanea con gli Stati Uniti, The Killing, seconda stagione, dal 4 aprile, su Fox Crime.